il professor Massino, Guido Massino, che è professore di letteratura tedesca presso l'Università del Piemonte Orientale. Tra i suoi argomenti di ricerca possiamo ricordare, attorno all'argomento centrale rappresentato dalla figura di Kafka, Kafka è il teatro iddish, Kafka è Emile Najazenska, Kafka è la letteratura italiana. Ricordo tra le numerose pubblicazioni di Guido Massino, un saggio del 1982 dedicato proprio a Franz Kafka, poi un articolo importante del 2011, Protocolli della legge Kafka all'undicesimo congresso sionista, pubblicato in Cultura del sionismo, 1895 e 1948, questo del 2011. Poi ha scritto in tedesco, dell'Università dell'Università di Galicien e Budapest, sul biografischo e culturale interromo di Kafka's Erzählung, un berito per una Akademia, questo del 2018. Ancora, Kafka's Beziehung zum iddiazio theater, von 1960 bis 1970, zum biografischen und kulturellen Hintergrund von der Erzählung ein Bericht für eine Akademie. Il rapporto di Kafka con il teatro jüdisch nel periodo 1916-17 e sullo sfondo biografico e culturale del racconto, un reportage per un'Accademia. Ecco, ma il testo che è pertinente in questa serata è quello curato da Guido Massino e Claudia Sonino e le lettere a Milena. Questo testo è un'edizione critica, è importante ricordare che si tratta di un'edizione critica delle lettere a Milena di Kafka, di Franz Kafka. Questo testo è particolarmente interessante anche perché non solo per i riferimenti impliciti e sottesi a Dante, ma anche ad altri autori della letteratura europea, ma anche in virtù del fatto che contiene due testi di Milena Iezenska, molto interessanti, uno dedicato al tema della felicità del matrimonio e l'altro è un ritratto di Kafka. Ma non aggiungo altro perché preferisco dare la parola appunto al professor Guido Massino. Ringrazio l'Associazione di Studi Rosmini di Trento e il professor Tugnoli per avermi invitato a parlare su un argomento poco conosciuto anche nell'ambito degli studi di Kafka. Delle letture dantesche di Kafka infatti non sono rimaste quasi testimonianze. Un'edizione della Divina Commedia, tradotta da Karl Streckfuss, si è tuttavia conservata fra i suoi libri dopo la morte appunto di Kafka. Ma va subito detto che Kafka non sempre parla degli autori che hanno avuto peso nella sua formazione intellettuale oppure che hanno influenzato la genesi delle sue opere. Ben poco sappiamo ad esempio delle sue letture dei Vangeli e delle scritture in generale o all'opposto delle sue letture di Nietzsche. È stata l'edizione delle lettere a Milena che ho curato con Claudia Sonino per la casa editrice Giuntina a metterci sulla strada di Dante, vorrei far vedere il libro che è uscito in prima edizione nel 2019 e poi in una seconda edizione riveduta nel 2020. Ecco, le lettere a Milena che qui sono state tradotte per la prima volta integralmente da Isabella Bellengacci portano il lettore al centro della vita di un grande scrittore e di molti conflitti che rimarranno poi irrisolti nel Novecento. Ma riporta anche al centro una storia d'amore che continua a vivere ben oltre l'orizzonte temporale e biografico dei suoi protagonisti. Ma veniamo al nostro tema. Kafka, lettore segreto di Dante. La prima significativa traccia di Dante che mi sembra di poter cogliere negli scritti di Kafka ci porta proprio non lontano da Trento e più precisamente arriva sul Garda dove lo scrittore soggiorna nel 1913. Kafka aveva allora trent'anni, aveva pubblicato pochi brevi racconti, aveva già scritto la Metamorfosi che uscirà nel 1915, ma come scrittore è praticamente sconosciuto e vive, come sapete, una vita lacerata fra l'impiego in un istituto di assicurazioni e la letteratura. Da un anno inoltre è legata con la berlinese Felice Bauer ma anche questo rapporto è segnato da sentimenti ambivalenti e problematici. Arriva dunque, Kafka scrive agli amici pragesi di sentirsi come chi ha preso commiato dal mondo e si aggira nei pressi dell'anti-inferno. Che Kafka abbia qui presente il terzo canto dell'inferno quando Dante e Virgilio giungono all'Acheronte e alla porta del Regno dei Morti ecco, trova conferma in un frammento del 1917 pubblicato postumo con il titolo Il Cacciatore Gracco. Il protagonista di questo racconto muore durante una battuta di caccia ma l'imbarcazione che dovrebbe condurlo nel Regno dei Morti e con la quale lui a proda arriva sul garta ecco, l'imbarcazione per un errore del timoniere ha perso la rotta e il cacciatore è costretto a vagare fra il mondo dei vivi e quello dei morti. È possibile già ora fare un primo raffronto a differenza di Dante qui il viaggio nel mondo dei morti non può avere inizio e neppure di conseguenza l'incontro con il giudizio divino. È un tema che Kafka aveva però già affrontato tre anni prima scrivendo Il processo un romanzo che verrà pubblicato anch'esso postumo. Ecco, come dicevo delle letterature dantesche di Dante non ci sono quasi testimonianze. Lo stesso non si può però dire dell'amico Max Prod che all'epoca era assai più noto di Kafka e che sarà poi l'editore postumo delle sue opere. Ecco, Max Prod si era occupato lungo di Dante e nel 1918 inviò a Kafka in lettura il trentesimo canto del Purgatorio. Glielo spediva per spiegargli il senso di una sofferta relazione straconiugale con una donna che lui considerava essere la sua guida spirituale. e il canto come è noto nell'incontro nel paradiso terrestre di Dante e Beatrice di Beatrice che rimprovera Dante per aver abbandonato dopo la morte il cammino che lei gli aveva indicato e si presenta come madre severa così la madre e il figlio pare superba. Max Prod sottolineava in questi versi dei risvolti addirittura freudiani ma soprattutto gli stava a cuore fare capire a Kafka come l'elemento diciamo erotico, fisico non fosse meno importante di quello spirituale nella Beatrice di Dante questa era la sua interpretazione quindi una Beatrice carnale dove l'elemento erotico è la premessa anche poi direi dell'ascese spirituale. Kafka rispondendogli scrive che i versi di Dante sono bellissimi però non condivide l'interpretazione dell'amico Verodo e d'altra parte sappiamo dai suoi scritti che la sessualità per lui è una forza legata sì al divino ma che viene vissuta soprattutto come macchia con ansia, come angoscia anche come un ostacolo alla possibilità della felicità coniugale scriverà ma veniamo ora alle lettere a Milena nell'aprile del 1920 Kafka parte per Merano per curare la malattia ai polmoni che era iniziata nel 1917 e si lascia alle spalle un terzo fidanzamento fallito con Yuri Vorisek e il sentimento di una ulteriore sconfitta esistenziale il soggiorno in Italia che per i medici non è più rinviabile per lui è soprattutto una ricerca di solitudine di isolamento forse con la speranza di iniziare un nuovo progetto letterario o di riprendere progetti che aveva abbandonato ecco ma Merano viene qualche cosa di inaspettato inizia uno scambio un fitoscambio epistolare con una giovane praghese che traduce in lingua cieca a Vienna alcuni suoi racconti Milena Iesenska Milena è la figlia di un noto odontoiatra e professore universitario praghese la famiglia antiche origini cieche Milena è cristiana ma ha sposato un letterato ebreo come Kafka Hans Pollack con il quale ora vive a Vienna Milena ha 23 anni Kafka quasi 37 e Milena fin da giovanissima si è fatta notare a Praga per la sua intelligenza per una eccezionale cultura per la sua bellezza ma anche per l'insofferenza verso regole e convenzioni per le sue intemperanze e per la relazione con l'ebreo Pollack il padre arriva a farla rinchiudere in una casa di cura psichiatrica per alcuni mesi la vita coniugale di Milena a Vienna con Pollack che è costellata di reciproci tradimenti e soprattutto subiti da Milena Milena a Vienna viene indubbiamente a contatto con grandi figure intellettuali della Vienna dell'epoca conosce Franz Werfel Hermann Brock forse conosce anche Freud ma direi ancora di più viene a contatto con un mondo di ombre di anime morte che l'ha portata come lei racconterà Kafka sull'Olo dell'Abisso ecco vorrei fare vedere un'immagine piuttosto nota di Milena che è tratta da un ultimo recente libro raccolto dei suoi scritti dei suoi articoli uscito in Germania nel 2020 Praga Interhöfe i cortili pragesi in primavera uscito nel 2020 a cura della principale biografa di Milena Iesenska Alena Wagnerova è un libro peraltro in parte noto ai lettori italiani dalle traduzioni di questo volume intitolato Tutto e vita uscito negli anni Ottanta da Guanda che contiene testi insomma estremamente interessanti non solo quelli degli anni della relazione con Kafka in cui Milena Iesenska con grande acume risponde insomma e dialoga a distanza anche con i testi letterari insomma più enigmatici sottilmente con i testi di Kafka ma anche per gli articoli degli anni successivi fino al 1939 quando Milena racconterà l'invasione nazista della Cecoslovacchia lei stessa aderirà poi alla resistenza prodigandosi per salvare la vita a perseguitati politici e a numerosi ebrei e venendo poi arrestata e internata nel campo di concentramento di Ravensbrück dove trascorrerà alcuni anni e morirà ma torniamo a Vienna i racconti che Milena traduce a Vienna che vengono pubblicati sono le prime traduzioni in assoluto di Kafka pubblicati sulla rivista letteraria in lingua cieca Kmen dicevo questi racconti aprono indubbiamente nella vita di Iesenska uno spiraglio e la grandezza di Kafka secondo lei anche la purezza insomma la luminosità della sua scrittura Kafka però dal canto suo la mette subito in guardia dalle finzioni della scrittura degli scrittori però insomma lo spazio della parola scritta acquista fra di loro in questo scambio di lettere insomma numerosissime le lettere di Milena sono andate perdute e che si concentra soprattutto fra la primavera del 1920 e l'autunno dello stesso anno ecco vi dicevo si crea uno spazio quasi fisico la parola scritta diventa un mondo in cui Kafka vorrebbe condurre Milena per mano e perdersi con lei e dall'altro lato la mette in guardia dalle finzioni dei letterati e nelle lettere a Milena che compare anche l'unica esplicita citazione dantesca che riprende il già ricordato terzo canto dell'inferno lasciate ogni speranza voi che entrate qui Kafka si riferisce alcuni conoscenti pragesi di Milena anche se anime figure spettrali ecco allertati da questo segnale questa unica citazione peraltro non dichiarata da Kafka non parla mai apertamente di questo gioco di rimandi danteschi allertati da questo segnale possiamo allora iniziare a leggere in filigrana queste lettere e ci accorgeremo allora che fin dall'inizio Kafka riprende forse anche ironicamente motivi danteschi ci troviamo di fronte a una serie di richiami che si sovrappongono in lontananza quasi impercettibilmente alla realtà alla realtà quotidiana non viene mai offuscata nella sua concretezza insomma da queste citazioni insomma il lettore quasi non se ne accorge ecco ma allo stesso tempo la vita quotidiana in cui i personaggi emergono nei loro slanci ma anche spesso nei loro limiti nelle paure nelle angosce ecco la vita quotidiana viene proiettata in questo gioco di rimandi letterari in realtà non solo Dante ma penso in particolare a Dostoievski e alle scritture evangeliche bibliche dicevo la vita quotidiana non viene mai insomma posta in secondo piano tutt'altro ma viene proiettata impercettibilmente verso altre dimensioni dunque ricordando il primo incontro avvenuto a Praga nell'autunno del 1919 probabilmente Kafka scrive così un singolo e breve incontro quasi tacito nella memoria evidentemente non si può esaurire è una frase che riprende segretamente l'inizio della vita nuova che suona così in quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere si trova una rubrica la quale dice incipi vita nuova ma riprende anche un canto della canzone donne che avete intelletto d'amore che è contenuta nella vita nuova il verso non per chi o creda sua laude finire così questo ricordo è qualche cosa che tende a svanire nella memoria Kafka dice di ricordare soltanto alcuni tratti del volto del vestito di Milena è un'immagine che si perde in una sorta di alone anche misterioso direi da Dante Kafka riprende due elementi insomma il libro della memoria e questo senso di non poter esaurire il significato di quell'incontro con la parola così procedendo nella lettura delle lettere ci accorgiamo che come Beatrice Milena diventa una presenza angelicata un angelo sotto vesti umane e l'angelo degli ebrei come la definisce Kafka come Beatrice nella commedia Milena diventa madre e maestra ora severa ora comprensiva Milena scrive ancora Kafka Max Brod è un fuoco vivo ricordando anche qui probabilmente un frammento di Eraclito ma anche gli ultimi versi del primo canto del paradiso maraviglia sarebbe in te se privo di impedimento giù ti fosse assiso come a terra quiete in fuoco vivo allo stesso modo il nome di Milena gli ricorda cito Kafka nel colore nella figura una donna che si porta sulle braccia fuori dal mondo dal fuoco è un'immagine in cui ancora molto probabilmente è presente un'eco dantesca e in particolare l'eco della meravigliosa visione del terzo capitolo della vita nuova in cui amore porta fra le braccia Beatrice in una nuvola di fuoco ecco e procedendo ancora troviamo riaffiora spesso nelle lettere il nesso saluto salute insomma il significato salvifico dell'incontro con Milena e dei suoi scritti così Kafka può scrivere alla giovane praghese le tue lettere sono quasi in ogni riga la cosa più bella che mi sia capitata nella vita tu hai contribuito in maniera decisiva alla mia guarigione e ancora le scrive della mia esistenza donata da te e potremmo così continuare in questo gioco alla ricerca di nascoste citazioni e di motivi danteschi lo sguardo il respiro di Beatrice l'immagine del bosco o della selva che ritorna insistentemente nelle lettere come luogo in cui ci si perde e ci si ritrova quello però che mi pare importante sottolineare è non tanto la ripresa di questi motivi danteschi in sé quanto piuttosto la trasformazione e la loro metamorfosi negli scritti di Kafka d'altra parte i personaggi della storia del mito della letteratura transitano nell'epoca moderna incrociando la vita dei protagonisti reali e si trasformano Milena come abbiamo visto è anche lei stessa un angelo smarrito che ha bisogno di essere soccorso indubbiamente però anche la Beatrice dantesca che Kafka ha presente non è affatto una figura univoca ma piuttosto come la definiva Carl Federn agli inizi del novecento il personaggio più enigmatico della letteratura universale siamo in anni che precedono ancora i grandi saggi di Auerbach sull'interpretazione figurale di Dante riprendendo la tradizione esegetica cristiana che vede nei personaggi l'anticipazione dei personaggi di dimensioni future ma già all'epoca di Dante vari studi insistevano sulla complessità simbolica e sulle trasformazioni di Beatrice dalla vita nuova al convivio alla commedia e questo non solo nel senso di uno sviluppo del personaggio di Beatrice ma della coesistenza contemporanea di diverse dimensioni e di figure storiche nel personaggio appunto ed è questo che interessa soprattutto Kafka altre interpretazioni ancora sostenevano la presenza di influssi cabalistici nell'opera di Kafka una tesi assai controversa peraltro Umberto Eco la riteneva plausibile è una tesi che ebbe un certo seguito fra 8 e 900 supportata dall'ipotesi di un'amicizia fra Dante e il letterato ebreo Immanuel ben Salomon noto anche come Emanuello Romano che alcuni anni dopo la morte di Dante scrisse un poemetto in ebraico ispirato alla divina commedia che si intitola Inferno e Paradiso Ora è probabile che l'eco di questi studi sia giunta a Kafka i protagonisti delle lettere in ogni caso sembrano vivere talvolta in mondi paralleli avere una concreta dimensione terrena oltre la quale se ne delineano delle altre ecco le cose si complicano ulteriormente in Kafka perché i ruoli si scambiano di continuo come in un gioco dei quattro cantoni di Rakafka spresso l'allievo diventa il maestro la salvata diventa la salvatrice dunque dicevamo che la relazione fra Kafka e Milena Iesesca si svolge in un breve arco temporale a inizi luglio del 1920 si incontrano per alcuni giorni a Vienna e poi in agosto sulla frontiera fra Austria e Cicoslovacchia Kafka pensa forse per un attimo a un futuro insieme ma altri interpreti sostengono esattamente il contrario in ogni caso capisce che Milena non lascerà il marito non vuole addentrarsi in un rapporto a tre sempre più problematico teme la vitalità di Milena che senza mezzi termini gli dice fin dall'inizio di non poter amare un volto fatto solo di lettere scritte nell'autunno del 1920 Kafka infine le chiede di sospendere la corrispondenza solo il silenzio è possibile le scrive tutto il resto distrugge ulteriormente fu certamente un distacco doloroso per tutte e due ma forse anche l'inizio di una rinascita Milena si allontanerà definitivamente dal marito dedicandosi all'attività giornalistica per i quotidiani pragesi e poi ritornerà a Praga Kafka pur nell'aggravarsi della malattia nel 1922 scrive del castello ci saranno ancora dei brevi incontri alcune lettere in una Kafka le parla dei baci inviati per lettera che non raggiungono mai il destinatario perché degli spetri avidi di energie vitali li bevono durante il tragitto insomma qui si ha la sensazione appunto i baci scritti di una relazione quasi esclusivamente epistolare insomma il senso anche della scrittura della letteratura che si sovrappone all'amore stesso e alla fine lo consuma anche se per altro verso la letteratura il gioco letterario i rimandi ai grandi scrittori insomma proprio il gioco della scrittura anche quello che in questa relazione da sostanza grandezza respirano però Kafka la scrittura è qualche cosa lo sappiamo in Kafka che è di più di meno della vita e c'è anche questo senso insomma di un amore che si perde proprio perché Kafka si arresta insomma talvolta come notava Claudio Magris insomma in una sorta di desiderio di vivere soltanto sulle vette anche frenate insomma da un timore verso la vita istintuale erotica e lo spazio vero scriverà Kafka in una delle prime lettere a Milena e quello mio della mia camera della scrittura delle lettere stesse qui vive la Milena reale ben più reale di quella di Vienna e d'altro lato insomma come come ci dice questa lettera a cui vi ho accennato la sensazione insomma in qualche modo che l'amore anche si perde attraverso le lettere e nella scrittura che avvicinano ma tiene anche la scrittura che tiene anche lontani ecco vi dicevo quando nel 1923 Kafka con un atto molto coraggioso lascia per la prima volta definitivamente Praga e si trasferisce a Berlino con Dora Diamant che è la sua ultima compagna scrive a Milena senza mai nominare Dora che nel mondo esistono ancora grandi miracoli e leggendo insomma le lettere anche quelle precedenti si ha la sensazione insomma che lui ponga Milena in una sorta di rapporto insomma ancora è Milena la figura dell'angelo che guida che segna il suo destino anche nella spinta insomma verso questa decisione di lasciare Praga nel 1923 non soltanto insomma Milena è per lui direi questo l'angelo che lo riporta sulla via della scrittura dopo tre anni in cui non aveva scritto quasi nulla facendogli sentire la sua grandezza e facendogli sentire come lui dirà che l'angoscia è anche la parte migliore di me Milena lo ama per la sua angoscia perché sa che la sua angoscia è ciò che lo fa essere un grande scrittore e però sente anche insomma una presenza costante nei momenti chiave della sua vita e probabilmente anche in questa decisione di lasciare Praga per raggiungere Dora a Berlino le scrive poi ancora un'ultima cartolina pochi mesi prima della morte che spedisce il giorno di Natale del 1923 da Berlino che vi vorrei leggere cara Milena è da molto che c'è qui un brano di una lettera pronto per lei ma non riesco a proseguirla perché le antiche sofferenze mi inseguono anche qui e mi hanno attaccato mi hanno un poco battuto tutto mi stanca ogni segno di penna tutto quello che scrivo mi sembra troppo grandioso senza rapporto con le mie forze e se scrivo cordiali saluti questi saluti avranno poi davvero la forza di arrivare nella rumorosa grigia selvaggia urbana all'Erschenfelderstrasse dove io e le mie cose non potremmo neanche respirare penso all'abitazione di Milena a Vienna così non scrivo affatto aspetto tempi migliori o ancora peggiori per il resto qui sono curato bene e teneramente fino al limite delle possibilità umane ho notizie dal mondo e con gran forza solo attraverso i rincari i giornali di Praga non li ricevo quelli berlinesi sono troppo cari per me che cosa ne dice di mandarmi ogni tanto un ritaglio dei suoi articoli del genere di quelli che una volta mi aglietavano tanto e ora se i migliori saluti che importa se già la porta del giardino cadono per terra forse la sua forza è tanto maggiore la sua la forza di Milena una conclusione insomma enigmatica con questi saluti finali che non hanno quasi la forza di superare la porta di casa e che cadono sulla soglia del giardino un'immagine appunto enigmatica che chiude le lettere e si ricolle in qualche modo anche alle lettere iniziali un saluto che si riconosce insomma debole ma forse la forza di Milena sarà per questo ancora più grande c'è in quest'ultima immagine il ricordo del chicco di grano che se non cade per terra e muore non può portare a frutto anche forse quell'idea tanto più piccolo tanto più debole tanto più forte tanto più grande di San Paolo ma certamente in questa immagine finale c'è anche un richiamo ancora a Dante in particolare al motivo del saluto di Beatrice prima negato e poi concesso no? Sì alla fine le invio i miei migliori saluti no? Chissà se arriveranno non si avranno la forza ma forse per questo potrebbero essere ancora più in qualche modo salvifici ma tutto rimane sospeso in una dimensione abbastanza enigmatica ecco le numerose citazioni i rimandi la rielaborazione dei motivi danteschi una rielaborazione segreta non ne parla mai apertamente Kafka rimane come abbiamo detto più volte sullo sfondo tutto questo credo che possa farci legittimamente supporre che Kafka si sia confrontato a lungo in diversi periodi della sua vita con Dante penso anche in particolare quando lui scrive i suoi romanzi più celebri Il processo e Il castello forse non si è confrontato a lungo ma con la genialità intuitiva che gli era propria no? Naturalmente per Kafka Dante potrebbe essere una guida spirituale e certamente anche il modello di una scrittura polisemica che lo affascina no? E un autore la cui scrittura appunto si apre a diversi livelli di interpretazione a diverse dimensioni no? Quindi se noi seguiamo queste varie citazioni ci rendiamo conto che ci sono dei riferimenti in qualche modo simbolici che non sempre riusciamo a ricostruire e anche Kafka che guarda talvolta al mondo di Dante con così come guarderanno adesso i surrealisti no? Con una fascinazione per l'immagine dantesca che poi lui sviluppa metaforicamente insomma con la sua fantasia e c'è però anche un discorso in qualche modo allegorico anche se non completo che ricorda ciò che avviene ad esempio nella lirica di Montale nei riferimenti a Dante in ogni caso insomma io penso che Kafka ha colto insomma tutta la complessità della scrittura la modernità della scrittura dantesca ecco dicevo possiamo pensare che Kafka si sia occupato in diversi periodi della sua vita di Dante naturalmente della vita nuova forse dopo che Max Brod inviò il canto nel 18 e poi della commedia e direi insomma nonostante il mondo di Kafka e dei suoi romanzi ci portino nello smarrimento del mondo dell'aldiquano dell'oscurità in cui la legge si perde nel mondo terreno direi però che anche il paradiso potrebbe avere colpito e affascinato Kafka quasi sicuramente fu così e penso nel paradiso in particolare al motivo della insondabilità della giustizia divina della predestinazione del canto ottavo nel canto diciottesimo diciannovesimo ventesimo ventunesimo del paradiso in particolare penso al canto diciottesimo alla magoria delle luci dei beati che compongono prima l'immagine dell'aquila e poi si dispongono nella scrittura del verso di legite justizian qui giudicati terra amate la giustizia che voi che giudicate in terra che è ripresa dal libro della sapienza e alla fine insomma dopo aver composto varie lettere formano una lettera M motivi insomma quasi visionari surreali affascinanti che certo colpirono la fantasia di Kafka la sua immaginazione penso ancora al canto ventiseiesimo in cui Adamo illustra le trasformazioni del nome di Dio un tema questo che è affascinato sappiamo Kafka e che su cui ritornano alcuni scritti la trasformazione dell'immagine di Dio o dell'imperatore insomma come lui scriverà in una serie di di frammenti narrativi che riguardano la costruzione della moraglia cinese penso ancora nel paradiso al tema della ineffabilità dell'impossibilità di esprimere e di raffigurare l'estrema essenza della rivelazione divina che si delinea in particolare negli ultimi canti penso ai versi del ventitresimo canto del paradiso in cui Dante deve riconoscere di potere riassumere solo molto approssimativamente il cammino della rivelazione verso la rivelazione e così figurando il paradiso conviene saltare lo sacrato poema come chi trova il suo cammino reciso un cammino continuamente spezzato e viene allora spontaneo pensare a Kafka che da una prospettiva moderna scriveva che cito Kafka per tutto ciò che trascende il mondo sensibile il linguaggio può essere usato soltanto in modo allusivo mai neppure vagamente in forma comparativa e ancora quando scrive a Milena Iezenska io cerco sempre di comunicare qualcosa di incomunicabile di spiegare qualcosa di inspiegabile Kafka considerava la propria letteratura un assalto al limite un'espressione che forse non è sbagliato usare anche per Dante è proprio questa tensione direi a esprimere l'inesprimibile mi sembra il filo che lega consapevolmente nella distanza delle epoche Dante e Kafka con Dante ma questo vale anche per altri autori del novecento che hanno riscoperto Dante in particolare il paradiso e la sua grande modernità penso al già citato Montale ecco e allora vorrei concludere soffermandomi proprio sugli ultimi versi famosissimi del paradiso quelli dell'estremo travaglio della mente umana di fronte al mistero dell'immagine umana che si scrive in quella divina Dante lo sappiamo si sente come il geometra che cerca inutilmente di misurare il cerchio e la sua quadratura finché alla fine una folgora un'illuminazione come un lampo folgorante lo solleva da questo dubbio ma a questo punto la sua immaginazione è ormai impotente a esprimere questa illuminazione e per altro verso ogni suo moto e desiderio individuale è ormai assunto nell'armonia universale e da quella quale Dante si conforma così come una ruota che è mossa regolarmente sono i versi famosissimi che chiudono il poema all'alta fantasia qui manco possa ma già volgeva il mio disio il velle siccome ruota che ugualmente è mossa l'amore che muove il sole e le altre stelle versi che indubbiamente Kafka conosceva e che sembra parafrasare in una lettera a Milena Iesenska quando dice che le parole scritte dalla giovane amica le sue lettere i suoi articoli sono per lui cito Kafka come una sorta di segnale sulla strada di una persona una strada sulla quale si avanza sempre più felici finché in un momento di illuminazione si capisce che non si avanza affatto bensì si corre solo in cerchio nel proprio labirinto un passo in cui peraltro è evidente la distanza rispetto al procedere al cammino di Dante l'ascesa si conclude qui infatti non più in armonico confluire nell'ordine universale ma in un percorso in cui il soggetto ruota su se stesso e si perde nel proprio labirinto un percorso quindi concentrico così come concentrici sono i sentieri che percorrerà il protagonista dell'ultimo romanzo di Kafka nel tentativo di raggiungere il castello il protagonista del castello è l'agrimensore K agrimensore land fermessere un termine probabilmente anzi direi certamente non casuale che equivale insomma agrimensore a geometra Kafka scriveva che l'arte è un essere abbagliati dalla verità solo la smorfia di dolore sul volto che arretra è vero null'altro solo la smorfia è vera null'altro è un pensiero su cui possiamo interrogarci a lungo e in particolare potremmo interrogarci se esso si riferisca all'arte in assoluto e quindi anche a quella di Dante o a una condizione più specifica dell'artista moderno e della propria arte di Kafka o della sua generazione artistica in ogni caso Dante si arresta di fronte all'essenza ultima all'ultima rivelazione a quell'essenza noumenica del mistero divino ma il suo viaggio si presenta pur sempre come sintesi di un'epoca e direi ancora di più come trasmissione di verità trascritte sotto dettatura divina per ricondurre sulla via della salvezza e della fede un'umanità smarrita per Kafka che si considera per molti versi anche lui il rappresentante della propria epoca le cose stanno diversamente il medico di campagna protagonista di un suo racconto non può portare soccorso al mondo perché quel mondo ci dice ha perduto la fede e ha perduto persino il desiderio di guarire di essere salvato il messaggio dell'imperatore è un altro suo famoso racconto non raggiungere mai il suddito a cui è destinato perché il messaggero che dovrebbe portarlo si perde negli infiniti cortili che stanno attorno al palazzo imperiale e fra i detriti del mondo l'uomo di campagna infine della nota parabola o leggenda davanti alla legge si mette in cammino alla ricerca della legge ma deve arrestarsi come sappiamo di fronte ad una porta aperta dove un guardiano gli proibisce l'accesso davanti a questa porta ancora una porta ricordiamo la porta tantesca che apre la via fa iniziare la via del regno dei morti anche qui una porta una porta aperta dicevo l'uomo di campagna trascorre di fronte alla porta della legge tutta la sua vita in un'attesa vana e alla fine quando sta per morire proprio quando l'oscurità dei sensi insomma il buio la tenebra avvolge ormai la sua vita i suoi sensi ecco che vede rompere lontano in lontananza il fulgore il lampo il chiarore di una luce inestinguibile che è appunto la luce della legge ma ormai la sua vita sta per terminare la porta gli dice il guardiano sarà subito chiusa e quella porta tuttavia era destinata soltanto a te ed ecco dunque che anche nella parabola della legge ancora una volta direi il viaggio di Kafka sembra interrompersi molto prima sulla soglia fra l'al di qua e l'al di là sempre interrompersi insomma là dove quello di Dante inizia c'è un limite insomma su cui Kafka si sofferma l'idea del limite del confine della linea oltre al quale non si può andare un motivo su cui ritorna in diversi suoi scritti e che non si può interpretare univocamente questo limite è senz'altro per Kafka un elemento costitutivo dell'esperienza umana e per altro verso è anche un confine che non sembra fissato una volta per sempre ma che varia piuttosto attraverso le epoche epoche insomma indubbiamente differenti quella di Dante di Kafka e non solo per il trasformarsi dell'orizzonte dell'esperienza storica ma sembra dirci Kafka anche per la intima statura dei loro interpreti dei protagonisti degli artisti che le hanno caratterizzato l'epoca di Dante quella di Kafka diverse stature insomma degli interpreti gli artisti sono anche direi i personaggi che aprono la via verso verso il dialogo insomma verso il rapporto con l'essere insomma epoche diverse stature artistiche diverse quindi una distanza epocale che anche della in cui Kafka accoglie anche tutta insomma la grandezza di Kafka e anche la sua impotenza insomma artistica epocale insomma ma la potenza anche del linguaggio straordinario insomma di Dante che non è ripetibile ecco di questa distanza vi dicevo Kafka ci parla in alcuni scritti ma in particolare in una in un breve racconto che apre la sua raccolta il volume di racconti un medico di campagna che esce nel 1920 sono racconti che lui ha scritto nel 1917 a ridosso della malattia e che si legano anche la sua sensazione di essere rappresentante di un'epoca di cui lui può soltanto però dire comunicare l'elemento negativo e nulla insomma che sia anche minimamente positivo quindi il testimone di una impossibilità ecco di questa distanza epocale vi dicevo ci parla in questo breve racconto che apre il libro a un medico di campagna e che si intitola il nuovo avvocato con il quale vorrei concludere Kafka immagina che Bucefalo il cavallo di Alessandro Magno riemerga nell'epoca presente nei panni di un modesto avvocato che vive a Parigi al riparo del clamore delle antiche battaglie di Alessandro compulsando vecchi libri della legge i personaggi del mito i grandi personaggi ritornano presso spesso in Kafka sotto forme modeste nel presente d'altra parte che cosa ci dice Bucefalo Bucefalo ci dice questo oggi nessuno lo può negare non esiste alcun Alessandro nessuno sa più guidare verso l'India già allora le porte dell'India non si potevano raggiungere ma la direzione in cui si trovavano era segnata dalla spada reale oggi quelle porte sono in tutt'altra parte più lontano e più in alto nessuno segna la direzione giusta molti impugnano le spade ma solo per agitarle e lo sguardo che vorrebbe seguirle si perde grazie 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 al professor Mazzino per questa relazione che ripercorre diciamo il rapporto tormentato tra Milena e Kafka e attraverso le lettere che nella vita reale in realtà loro si incontrarono se non ricordo male dal 29 giugno al 4 luglio 2020 a Vienna e questo periodo viene ricordato come una fase felice da parte di Kafka però l'unico diciamo che fu una parentesi nella nella vita di entrambi probabilmente la stessa Milena scrive nel saggio che il professor Massino ha inserito nel testo la lettera Milena scrive che la felicità nel matrimonio non si può cercare è una pretesa assurda cercare o promettere la felicità dentro il matrimonio ma chiaramente questo vuol dire allora che la felicità si può solo vagheggiare dall'esterno fuori del matrimonio in qualche caso raggiungere ma sempre col tormento se si tratta di pagare il prezzo di una relazione extra coniugale naturalmente con sensi di colpa laceranti e quindi è un tema esistenziale di notevole di notevole importanza insomma per quanto riguarda poi la ritrosia di Kafka a sposarsi il suo questa sorta di prevenzione questi suoi fallimenti lui stesso li considera fallimenti i fidanzamenti interrotti e questo vuol dire che evidentemente in cuor suo amava qualcosa di trascendente amava superare i limiti del dell'Ikipnung non so ecco questo è molto interessante questa è una diciamo un una una questione un tema che travalica i limiti diciamo di ogni epoca e di ogni momento storico davvero interessante sì il matrimonio nella lettera al padre Kafka scrive che creare una famiglia accogliere tutti i figli che arrivano e accompagnarli per un pezzo di strada in questo mondo incerto è per lui la metà più alta che un uomo possa proporsi questo probabilmente è vero e tuttavia nella sua vita letteratura e matrimonio insomma non sono compatibili anzi la vocazione letteraria lo porta lontano dal mondo del matrimonio tanto che Kafka per ben tre volte insomma romperà un fidanzamento nell'ultimo caso a pochi giorni dalle nozze quindi scrittura e matrimonio non sono compatibili perché la scrittura richiede solitudine richiede distacco anche dalla comunità degli uomini richiede forse anche il coltivare la propria sofferenza e angoscia cosa appunto che è incompatibile insomma con l'orizzonte della vita coniugale ma Kafka arriva anche a scrivere verso il 1918 1920 l'epoca della già ricordata lettera di Max Brod che lamentava la propria difficile relazione coniugale ecco in questo periodo Kafka scrive che l'ebreo occidentale moderno non ha più diritto al matrimonio non gli è più concesso il matrimonio perché non ha chiarezza sulle cose ultime sul senso ultimo sui valori ultimi della vita l'ebreo occidentale moderno è per Kafka insomma diciamo l'ebreo che vive nell'epoca del nichilismo in un'epoca di trasvalutazione dei valori in un'epoca in cui si sono perse le radici con la tradizione anche col senso religioso profondo della tradizione ebraica quindi si vive in un'incertezza di fondo in un mondo insomma in un oscillare fra esistenza estetica ed esistenza etica insomma a favore della prima ma quindi un'assenza di chiarezza insomma che contraddistingue anche la vita contemporanea per cui il matrimonio insomma è qualcosa di non più possibile in questo ambito nelle lettere a Milena si incontrano due mondi diversi quello delle radici cristiane di Milena e quello dell'ebraismo di Kafka è un mondo insomma che naturalmente dialoga anche a alti livelli attraverso le lettere insomma però nella realtà anche il matrimonio in particolare ricordando quello di Milena e Pollack il matrimonio insomma fra questi due mondi quello ebraico e quello cristiano rimane insomma sullo sfondo di queste lettere come una dimensione problematica Claudio Essonino che è una delle massime esperte della letteratura ebraico-tedesca di questo periodo e anche dei conflitti insomma delle problematiche generazionali che emergono in questi anni venti mi pare che intenda proprio questo insomma una alla fine inconciliabilità fra questi due mondi sono coppie inuguali che appunto in questa ricostruzione letteraria delle lettere convivono insomma concretamente storicamente insomma è una difficoltà in più Kafka viene a parlare del matrimonio però soltanto insomma alcuni anni dopo il distacco con Milena nel momento in cui Milena forse anche ricordando una certa intransigenza di Kafka che in fondo aveva voluto arrivare a insomma a questo distacco nel 1920 perché non voleva continuare una relazione tre con Milena ricordando una certa intransigenza scriveva che il vero pericolo del matrimonio insomma forse non è tanto l'infedeltà almeno così sembra dire quanto piuttosto il chiedere al matrimonio qualche cosa di non misurato con l'esistenza terrena la fedeltà eterna e ancora più la felicità forse vivere il matrimonio con fedeltà vuol dire secondo Milena accettare il proprio compagno o compagna nei suoi limiti nelle contraddizioni anche negli aspetti insomma poco gradevoli Kafka a questo punto risponde in maniera piuttosto vivace dicendole che sposarsi vuol dire invece essere certi sullo sfondo di quanto abbiamo detto è un'affermazione insomma anche sorprendente ma se noi pensiamo in fondo alle lettere a quanto abbiamo detto fino ad ora in particolare proprio al riferimento dantesco e a Beatrice come Kafka lavori su questa figura a quanto Kafka si discostasse dall'interpretazione che ne dava Brod di una Beatrice terrena ecco che ci rendiamo conto insomma che questo intervento così di Milena sul matrimonio come rinuncia alla felicità e in fondo anche alla fede insomma è assai lontano da quella rielaborazione direi da quella anche da quella via su cui Kafka aveva voluto incanalare insomma il loro rapporto una via insomma in qualche modo quella della ricerca spirituale e dell'ascesi e quindi mi sembra che il richiamo segreto a Dante sia ancora più plausibile alla luce di questa reazione di Kafka nei confronti di Milena che parla di un matrimonio come rinuncia in fondo ai valori ultimi alla felicità ecco indubbiamente c'è da fare una riflessione sulle donne nell'opera di Kafka e poi nelle lettere a Felice che esculate a Milena che in qualche modo è se stesse un libero sestante i personaggi femminili nel mondo di Kafka nei suoi romanzi sono figure ben diverse insomma dalla Beatrice di Dante pensiamo a Lenin nel processo ma anche a Frida nel castello sono figure che piuttosto invitano i protagonisti a rinunciare alla ricerca di qualche cosa che va oltre nel castello a rinunciare a chiarire il significato della chiamata della Grimesore che ha il castello ma piuttosto appunto anche Frida lo invitano ad accettare di vivere nella comunità del villaggio rinunciando a capire insomma quale sia il senso della sua chiamata al villaggio anche in fondo della sua vita e così le figure poi sono legate come l'abbiamo già detto nel mondo di Kafka anche all'elemento erotico pensiamo alla felliniana Brunelda di America un elemento che macchia insomma che in ogni caso ci riporta in modo pregnante all'aldiquan non certo insomma una dimensione angelicata nelle lettere a Milena troviamo qualche cosa appunto di completamente diverso è una sorta di romanzo dedicato alla donna all'amore anche all'amore insomma che naturalmente non cancella anche direi una certa pregnanza terrena al confronto anche sui argomenti che riguardano il proprio rapporto con l'eros e che ritroviamo nelle lettere ma che in ultima analisi insomma si proietta appunto come abbiamo visto su un modello dantesco e qui ancora una volta possiamo pensare all'importanza che abbia avuto come riferimento lontano Dante e Beatrice come colei che indica una via anche di ascesi nel vivere in qualche modo anche poi nel riscrivere letterariamente il rapporto con Milena Iesenska ecco chiedo ai presenti di intervenire eventualmente qualcuno vuole pure qualche quesito intanto che vediamo io ne vorrei un secondo e mi chiedo se è l'antisemitismo strisciante già all'epoca in quegli anni in cui Milena e Kafka scrivevano non abbia potuto avere un peso considerando appunto il fatto che mi pare che Pollack il marito di Milena fosse ebreo lei era invece cristiana non abbia potuto avere questo antisemitismo questo clima antisemita questa atmosfera un ruolo diciamo nell'incremento delle difficoltà ecologiche e relazionali tra loro ma in più in generale nella società del tempo insomma l'antisemitismo sì certamente è un tema centrale in queste lettere bisogna subito dire che siamo in anni che segnano una svolta insomma dopo la prima guerra mondiale con la formazione degli stati nazionali la dissoluzione dei grandi imperi ecco che l'antisemitismo viene alla ribalta a Merano in particolare Kafka apprende della pubblicazione di una traduzione in lingua tedesca dei protocolli dei savi di Sion che lui legge insomma in stralci pubblicati da un giornale cattolico di Merano e che Kafka giudica spaventosi e stupidi allo stesso tempo insomma questo soggiorno a Merano è anche un incontro con un antisemitismo sempre più marcato non solo a Merano ma anche a Monaco in Germania apprende Kafka proprio nella primavera del 1920 che la rappresentazione di un dramma dell'amico Brode è stato interrotto a Monaco da ripetute insomma esclamazioni antisemite per lui è qualche cosa di inaudito insomma di doloroso ma anche a Praga insomma l'antisemitismo è sempre più direi un fatto quotidiano che si insinua nella vita anche della nuova del nuovo stato cecoslovacco ecco proprio questi mesi di Merano oltretutto vorrei ricordare che al soggiorno di Kafka a Merano è stato dedicato proprio dalla città di Merano un anno insomma di studi di celebrazioni e un volume curato da Patrick Rina e da Veronica Rieder che si intitola Kafka a Merano uscito per la casa di Tricerezza che ci riporta proprio in questo clima dell'antisemitismo in questi territori che sono passati forzosamente a far parte insomma dello stato italiano ecco quindi Merano è anche l'esperienza insomma anche nella pensione dove lui vive di un atteggiamento sempre più intransigente e ostile nei confronti degli ebrei e questo naturalmente è importante per Kafka scrittore perché lui viene ad avere sempre di più la sensazione di essere proprio come scrittore in lingua tedesca il rappresentante di una cultura di un popolo che gli nega il mandato di farlo quindi come scrittore in lingua tedesca scrittore di una insomma che rappresenta un mondo un grande mondo culturale che però insomma al presente non gli riconosce più il mandato la legittimità di farlo quindi una coscienza anche dolorosa che gli fa sentire ancora di più la dimensione del suo essere senza patria ecco il rapporto con l'antisemitismo con i direi con i pregiudizi antisemiti insomma costella questo libro e proprio anche direi proprio per l'analisi che viene fatta insomma che è estremamente anche profonda e sofferta di certi elementi ebraici queste lettere non sono state pubblicate per molti anni diciamo col filtro della Shoah era difficile capire entrare nel senso di alcune affermazioni del dialogo su alcuni argomenti quindi queste lettere non vengono a lungo pubblicate anche perché trattano di un elemento doloroso scottante più o meno direttamente di antisemitismo si parla poi in maniera molto esplicita nel novembre 1920 quando a Praga scoppiano delle rivolte cieche antitedesche che però diventano subito anche rivolte antiebraiche vengono saccheggiate numerose vetrine distrutte vetrine negozi di proprietari ebrei ma viene la Torah assalto anche il municipio ebraico vengono distrutti i rotoli della Torah insomma per alcuni giorni Praga è messa al suo quadro Kafka scrive a Milena di sentire tutta l'umiliazione di chi deve insomma farsi difendere dalla polizia ascolta per strada insomma grida che ingiuriano gli ebrei e li chiamano razza rognosa questo naturalmente lo ferisce profondamente e arriva a scrivere a Milena Milena emigrare l'unica soluzione è emigrare soltanto emigrare ma emigrare insomma dove forse Kafka pensa alla Palestina sappiamo che da anni studiava l'ebraico e vagheggia insomma in più momenti della sua vita di emigrare in Palestina ma poi non se ne farà nulla ma proprio in quei giorni Kafka scriverà in quei giorni insomma di grande ansia insomma a Praga Kafka scriverà a Milena di essere lui il più occidentale di tutti gli ebrei occidentali abbiamo già visto insomma in parte che cosa significa significa essere rappresentante insomma di una cultura quella dell'ebraismo assimilato che ha perso le radici con la storia con la tradizione ebraica però essere in una condizione che coincide anche con quella dell'uomo moderno che vive insomma in un mondo dove non ci sono più valori nel mondo della crisi insomma anche nel pensiero occidentale quindi una situazione estrema io sono il più occidentale di tutti gli ebrei occidentali quindi anche l'interprete di un'epoca ma la conseguenza di tutto questo lui la spiega a Milena con un esempio insomma molto semplice dice io sono come uno che quando vuole fare una passeggiata non può come tutte le altre persone semplicemente prendere il cappotto e uscire ma deve costruirsi tutto con grande fatica il vestito il cappotto insomma le scarpe e mettersi in cammino ma dopo pochi isolati insomma questo questo io questo vestito questo abitus che ho cucito faticosamente va a pezzi io mi ritrovo insomma a frammenti e brandelli in mezzo alla strada insomma Kafka qui pensa alla sua identità ebraico orientale di cui dice che appunto significa crescere e vivere senza nessun fondamento nessun saldo terreno sotto i piedi lontano dall'aria viva da respirare lontano dalla legge dice Kafka un mondo in cui si esperisce l'assenza di fondamento e questa si riflette nella drammatica frammentarietà psicologica in fondo anche etica di cui abbiamo parlato prima ma proprio questo insomma fa capire Kafka a Milena e proprio questa frammentarietà diventa per lui in realtà anche una cifra direi artistica stilistica ed è la chiave di lettura che gli permette insomma di diventare anche l'interprete della condizione dell'uomo moderno grazie allora se non ci sono altre interpretazioni proposte di discussione noi ci congediamo vorrei ricordare che le lettere a Milena il volume pubblicato da Giuntina un anno fa nel 19 contiene un apparato critico molto ricco e molto utile proprio per ripercorrere queste tematiche che il professor Cassino ha dovuto inevitabilmente esporre in modo conciso e quindi chi fosse interessato naturalmente per leggere il volume tra l'altro molto interessante come dicevo perché sono riportati anche due articoli che furono pubblicati da Milena Chiesenska appunto su una rivista da Rovni Listi dovevi leggere giustamente in maniera corretta nel 1923 ecco e ringrazio 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 tantissimo Guido Massino e mi auguro che ci si presenti un'occasione per parlare di Kafka forse nel 1924 l'anno della morte di Kafka noi volevo dire nel 2024 potremo potremo organizzare diciamo un seminario proprio per ricordare e invitare di nuovo il professor Massino esperto speciale di questo scrittore buona serata e arrivederci grazie